come togliere la chiusura chiave molto semplice davanti a me una porta di legno maniglia in semirottone come faccio per togliere la chiusura chiave non è per nulla complicato basta semplicemente infatti prendere la chiave e girarla verso destra perché il rocchetto il rullo è stato messo verso sinistra alla mia sinistra per togliere la chiusura chiave basta girare verso destra ecco così ho tolto la chiusura chiave molto semplice no non è difficile la porta posso andare ad aprirla ok fatto se invece la voglio rimettere la chiusura chiave basterà che faccio l'operazione contraria ossia che giro questo a questa chiave verso sinistra così e la porta sarà magicamente chiusa a chiave beh molto semplice il tutorial molto stupido spero che vi sia piaciuto iscrivetevi commentate ciao da leandro narratore italiano